Il sacerdote Servo Don Ciccio è sempre vivo a Tortora. Ieri l'intera comunità di fedeli lo ha ricordato nel terzo anniversario della sua scomparsa. Una funzione ricca e sentita, una divina celebrazione, quella ufficiata da Don Antonio Pappalardo, oggi parroco a Santo Stefano Protomartire, una messa ufficiata nella chiesa Stella Maris, con chi ha avuto modo di conoscere il parroco, che per circa 40 anni è stato alla guida della comunità dei credenti. Don Antonio, pronto a sostituirlo, lo sta conoscendo attraverso le opere lasciate ai suoi fedeli. Sì, proprio questo dare tanto, in un certo modo, ha comportato davvero un'eredità abbastanza forte, che è rappresentata soprattutto dai battezzati di questa comunità parrocchiale di Tortora. E quindi ci tenevo fortemente, proprio in questo terzo anniversario della sua nascita al cielo, che questa sera ci radunassimo tutti quanti come il greggio sotto l'unico pastore, proprio per ricordare la memoria di questo degno confratello, che ha amato questa comunità parrocchiale di Tortora e davvero affaticato istancabilmente per la realizzazione del regno, in quelle che sono state soprattutto le priorità e l'aspetto spirituale di ogni battezzato, in quelle che sono le necessità per ogni battezzato. E ogni parola dei suoi parrocchiani testimonia la missione di Don Ciccio. Io ricordo molto bello di Don Ciccio, perché è stato un sacerdote vero come uomo, vero dentro di sé, che ha dato tutto, soprattutto a questo popolo tortorese, che ha fatto grande cose, gli ha dato due parrocchie. E' stato un dono di Dio che ha mandato a questo popolo questo vero sacerdote. E poi era un uomo molto umile, un uomo che dava coraggio ai suoi cittadini, ai suoi fedeli, ai suoi quelli che gli stavano vicino, che l'amavano, ma lui amava tutto.